Al ventiduesimo minuto il Modena riesce a portarsi in vantaggio con un gol di Luca Mannino. Grazie infatti ad una splendida azione di Giovannini che dribbla un avversario lasciandolo sul posto, al limite dell'area, il pallone arriva con un cross tra i piedi di Mannino davanti alla porta. Al calciatore modenese basta un tocco per battere il portiere avversario e portare la sua squadra in vantaggio. Il gol del 2-0 arriva all'ottantinesimo minuto e come spesso accade, da calcio d'angolo. Infatti dopo un colpo di testa di Pergreffi, il pallone arriva a Marco Armellino che non deve far altro che tirare sotto le gambe del portiere per segnare un gran gol. Vittoria meritata per il Modena che aggiunge tre punti importanti alla sua stagione ed una prestazione molto convincente. Iscriviti al canale per tante altre news sulla serie B